ciao amici di italia top games puntata numero 15 della nostra rubrica quotidiana per favore conami annuncia pes 2022 chissà quando arriverà il fatidico giorno e il game over di questa rubrica ma noi andiamo avanti tranquilli contenti di leggere i tanti vostri commenti di scambiarci opinioni pareri e dunque è sempre un piacere davvero leggere le vostre opinioni continuate continuate davvero mi ispirate le rubriche successive e tanto altro oggi vorrei parlarvi di una cosa che forse i più giovani di voi interesserà relativamente poco ma chi è neglienta o neglianta invece questo aspetto davvero farà scattare tante emozioni e tanti sentimenti perché perché come io già detto in nelle puntate precedenti con pes 2022 arriverà un cambio epocale per l'italia da un punto di vista commerciale di business per la stessa conami pes cambierà distributore ha già cambiato anche l'ufficio stampa perché fino a pes 2021 ufficio stampa e distribuzione dei giochi conami erano affidati ad alifax digital bros e questa cosa era una costante dai tempi della playstation 1 ragazzi playstation 1 quanti anni sono passati dagli anni 90 il secolo scorso il millennio scorso insomma erano quelle cose che per noi appassionati e per quanto mi riguarda anche come come responsabile prima della guida dei videogiochi di un importante portale sicuramente avrete sentito il nome di super eva poi come il redattore di every eye di multiplayer e poi con il mio sito italia top games avevo avevo e ho contatti con alifax e digital bros con delle persone con cui comunque sono stretti anche legami personali importanti anzi sono 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 ancora sono ancora in essere questi 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 legami ma al di là di questo come appassionato era un po una costante mettere assieme con ami ed alifax digital bros e avevo degli amici degli amici che avevano un negozio di videogiochi nella mia città che mi parlavano anche dei rapporti commerciali con alifax e digital bros che un tempo aveva quasi tutti i marchi principali di videogiochi in italia come anche avveniva il tante cose tante cose e comunque ecco è un segno davvero epocale di cambiamento comunque per un nerd come me che anche molto è sempre stato appassionato i case cinematografiche di distribuzioni di doppiatori come appunto della distribuzione dei videogiochi al di là del dell'interesse professionale mi ha davvero segnato perché mi ha fatto ripensare appunto a questi ultimi 20 30 anni che ho vissuto nel mondo dei videogiochi sia in maniera professionale successivamente prima ancora come se come giocatore sono tuttora giocatore adesso me ne da un bel po di tempo me ne occupo anche professionalmente di videogiochi e mi fa vedere proprio il tempo che passa e di come nessuna cosa possa essere considerata per sempre era come dirvi una costante pes in italia era alifax era digital bros era parlare appunto mandare la feedback zone alle persone che conoscevamo in alifax che conosciamo in alifax in digital bros scambiarci delle delle opinioni ogni anno appunto anche sulla feedback zone qualche richiesta di dichiarimento per la traduzione che poi arrivava a konami europe insomma è stato un momento è un momento epocale io adesso non so dirvi se la nuova distribuzione il nuovo ufficio stampa sarà migliore peggiore o uguale di alifax digital bros questo non so dirvelo e non so di non sa dirvelo nessuno perché nel futuro non ci siamo stati non purtroppo non c'è la macchina del tempo e quindi questo è tutto lo vedremo lo vedremo potrebbe essere migliore potrebbe essere peggiore potrebbe essere uguale questo è davvero troppo presto per dirlo però ecco mi fa riflettere sul fatto che appunto nella vita non si può dare mai per scontato niente tutto cambia tutto muta e molto spesso questo avviene su cose molto più importanti però ragazzi pes è una passione pes è un qualcosa che seguo sia come giocatore sia appunto come youtuber come blogger chiamatemi come vi pare non c'è problema basta che non state epiteti offensivi non ci sono problemi però davvero non mi sarei mai aspettato di annunciare che che konami non sarebbe stata più distribuita e seguita a livello di comunicazione da alifax digital bros vi assicuro che è stato un piccolo shock ma realmente parlo di shock quando mi è arrivato il comunicato stampa di laboratorio comunicazione il nuovo responsabile della comunicazione per l'italia per konami che presto si affiancherà al nuovo distributore che ancora ho cercato in vano di scoprire il nome del nuovo distributore ancora non lo so ho dei sospetti o delle vedendo dove è andata a finire capcom ad esempio però che anche prima era appunto con alfax digital bros adesso nuovo distributore però non mi espongo non lo dico perché sono società sono cose importanti alcune quotate in borsa quindi non voglio dire cose senza esserne certo il mio è solo un sospetto e come dire staremo a vedere so che a molti voi tutto questo potrebbe non interessare voi vi scaricate il gioco lo acquistate non cambia tanto però per gli appassionati appunto di lunga data e per coloro che seguono un po il mondo dei videogiochi nel dettaglio in queste cose anche da un punto di vista business diciamo sono importanti e sono importanti anche perché poi dopo i rapporti delle di konami con alcune società vengono anche vagliate appunto da queste agenzie di comunicazione dal distributore ci sono tanti aspetti che possono mutare i bundle ad esempio anche di come vengono distribuiti eccetera eccetera quindi insomma la politica dei prezzi ci sono tanti aspetti che come consumatori noi vediamo solo nel momento finale ma in realtà ci sono vari passaggi che passano appunto per i distributori per i responsabili di ogni paese insomma ci sono tante cose che 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 probabilmente potrebbero cambiare appunto con un nuovo distributore con una nuova agenzia di comunicazione noi seguiremo anche questo aspetto in dettaglio magari prima di che venga annunciato per 2022 sarà annunciato il nuovo distributore di konami per l'italia siamo qui in attesa dei notizi e magari dedicheremo un'altra puntata della nostra rubrica sempre che appunto arrivi prima la notizia del distributore che la notizia dell'annuncio di pes 2022 bene fatemi sapere se voi avete qualche aneddoto legato appunto a questa lunga lunga collaborazione tra konami alifax barra digital bros alifax digital bros sono la stessa cosa diciamo sono due brand name eccetera organizzazioni societarie ma il nucleo era quello bene io per oggi ho detto tutto vi ringrazio per l'attenzione se siete arrivati fino a qui mi auguro che vi siete già iscritti al canale youtube di italia top games se ancora non l'avete fatto fatelo se siete iscritti magari se volete anche abbonarvi è una piccolo supporto economico da 99 centesimi al mese e potete disdire l'abbonamento quanto volete e anche un supporto morale che date al lavoro mio di rudy di francesco degli altri ragazzi di pes italia che si hanno molto da fare per farvi davvero sapere tutto ma tutto sul sul videogame di pes sulla serie di pes ma e poi io seguo anche tutti gli altri videogiochi più amati dagli italiani bene ci vediamo domani con almeno due video uno sul boosting dei giocatori visto che ho messo da parte un altro po di preparatori speciali un altro la rubrica sempre che nelle prossime 24 ore con ami non annunci pes 2022 ma la rubrica ci sarà lo stesso sarà l'ultima puntata ma speriamo e poi speriamo anche di avere le anticipazioni di pes master i campionati sono sostanzialmente finiti questa settimana abbiamo i match day della Champions League e dell'Europa League speriamo che arrivino presto le novità anche legate agli europei che tra l'altro iniziano fra 15 giorni sostanzialmente poco più di 15 giorni perché cominciano giovedì 10 giugno con l'Italia in campo contro la Turchia e quindi mancano poco più veramente di due settimane vi ringrazio per l'attenzione aspetto i vostri commenti e a presto ciao